gentili telespettatori buona giornata se necessario al lavoro anche a natale perché il mese di dicembre ha delle scadenze impressionanti impressionanti c'è da terminare 55 progetti del pnr c'è da approvare la legge di bilancio e tante altre cose collegate a tanti temi tutto entro il 31 di dicembre intanto questo è l'avvertimento agli alleati c'è da lavorare anche a natale quindi scordatevi tante cose riposate il trolley intanto il capo di azione carlo calenda va a parlare con la meloni su le sue idee riguardo la la manovra quindi anche anche a natale potremmo essere a montecitorio sui banchi del nuovo governo per tutto il tempo necessario e anche durante le festività natalizie 25 dicembre 26 dicembre e anche il 31 di gennaio pertanto invoca invoca la compattezza e sulla manovra economica dice io sono tranquilla non temo l'esercizio provvisorio ha rassicurato a porte chiuse la leader di fratelli d'italia ma c'è solo un mese di tempo dobbiamo scongiurare che un incidente di percorso ci porti a sforare i tempi il timore e l'ingorgo parlamentare che potrebbe crearsi con i decreti in arrivo anche a causa dell'ostruzionismo delle minoranze e poi c'è un provvedimento da 37 miliardi e ne va e c'è in gioco il credibilità la credibilità della destra italiana quindi da una parte l'appello è alla compattezza dovremmo lavorare forse anche fino a natale capodanno santo stefano dall'altra parte il l'incontro con carlo calenda accolto dai big di fratelli d'italia fa parte di una strategia più ampia viene confermato dalla reazione furibonda di forza italia gli invidiosi che che puntano a denigrare l'esponente dell'opposizione carlo calenda ma al tempo stesso cercano di sminuire il ruolo di giorgia meloni da forza italia il solito disagio che va avanti da tempo forza italia un partito alla fine crepuscolare lotte all'interno per diventare i nuovi berlusconi e tutte le tutto quello che voleva berlusconi non è stato esaudito da moloni da meloni ministeri poltrone piazza questo piazza quello non gli è rimasto nulla quindi un leader sconfitto su tutto a cui rimane solo l'invidia verso giorgia meloni e il tentativo di ostacolare il governo a tutti i costi e sotto questo aspetto la meloni intanto butta le sue basi come dire forza italia indispensabile sì ma in un giorno di pioggia andrea e giuliano incontrano liccia per caso ma un giorno di pioggia potrebbe anche calenda sostituire berlusconi e non mi dite che berlusconi è meglio di calenda e dai insomma abbiamo visto durante le elezioni gli appunti a favore di telecamera le 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 esternazioni i finti i finti audio rubati che li ha fatti uscire lui dai tutto fatto per distruggere il governo meloni dalla sua invidia feroce questo e poi mi venite a dire che calenda è peggio di berlusconi calenda è meglio di berlusconi credo che governare con berlusconi è difficile e governare con calenda lo è lo stesso però non possiamo dire che governare con berlusconi è meglio che governare con calenda sarebbe meglio non governare con nessuno dei due ma calenda dice la meloni poteva cavarsela con un incontro pro forma una mezz'oretta e via invece ha accolto l'ospite con tutti gli onori facendogli trovare in sala il ministro giorgetti fazzolari e lollo brigida e il sottosegretario alla presidenza mantovano sempre presente nei momenti più importanti il vertice durato un'ora e mezza ed è stato molto operativo come se davvero ai piani alti del governo ci sia l'intenzione di accogliere i suggerimenti di calenda e compagni suggerimenti sempre che siano validi sempre che siano fattibili e sempre che siano interessanti dalla parte di meloni non c'è nessuna preclusione a cominciare dal reddito di cittadinanza che potrebbe virare verso il reddito di inclusione lei si è detto d'accordo dice calenda eppure assicura che no meloni non le ha chiesto carlo dacci una mano non ce n'è stato bisogno perché calenda non ha solo promesso che il terzo polo non farà ostruzionismo ma anche insinuato che forza stia al governo per sabotarlo sì ne siamo ne sono assolutamente d'accordo il resto è storia meloni lo ha fatto dentro il perimetro della maggioranza il suo e la sua manovra economica che dice per forza di cose è stata scritta a tempo di record e a tempo di record deve essere approvata ma ha promesso che rispetterà il parlamento e lascerà i partiti la possibilità di migliorarla con i capi gruppo la premiera rimandato alla prossima settimana il merito delle norme più controverse e dice non possiamo arrivare in commissione con migliaia di inventamenti di maggioranza dobbiamo sfoltirli prima le modifiche dunque saranno contingentate con l'obiettivo di limitare a 400 circa naturalmente non c'è tempo perché se voi fate migliaia di emendamenti migliaia di proposte di modifica e che chi le analizza migliaia impossibile matematicamente impossibile quindi se la legge di bilancio deve essere fatta prima della fine dell'anno quando il partito io devo dire io devo proporre il tempo non c'è questo è non ci sono cioè non è che la manovra di bilancio viene fatta all'ultimo minuto proprio per evitare le proposte viene fatta all'ultimo minuto perché il governo è cominciato a ottobre questa è la realtà verso la metà di ottobre realmente ha cominciato a riunirsi ma la meloni dice sono aperta comunque ai suggerimenti delle opposizioni purché non si pensi di stravolgere il lavoro che il governo ha fatto e il monito rivolto sia la lega che a forza italia grazie a tutti e arrivederci a presto